Da ieri in Sardegna è presente una delegazione di esperti dell'Ufficio Alimentazione Veterinaria della Commissione Europea per valutare lo stato di applicazione delle norme disposte dalla regione per l'eradicazione della peste suina africana. La delegazione, accompagnata da rappresentanti del Ministero della Salute, è stata accolta a Cagliari dai responsabili dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA nel Palazzo di Viale Trento. Il team di esperti rimarrà sull'isola fino al prossimo 18 ottobre e si sposterà in diversi territori, visitando allevamenti, macelli, imprese di trasformazione e incontrando le rappresentanze delle organizzazioni di categoria agricole e locali. Il team ha potuto valutare le novità elaborate nel 2014 dalla Giunta Pigliaro che si fondano su tre pilastri. La nascita dell'Unità di Progetto, ovvero il Centro Decisionale, in cui sono rappresentati tutti gli attori istituzionali coinvolti, assessorati, Ministero, agenzie regionali, ASL. L'utilizzo delle risorse finanziarie stanzate per favorire l'emersione degli allevamenti irregolari e sostenere lo sviluppo delle imprese che già operano in legalità. La repressione del sommerso, con oltre 500 capi abbattuti, si è avuto l'effetto di togliere qualunque certezza che opera illegalmente e qualunque certezza di poter continuare a farlo senza incorrere nelle sanzioni previste. Per la prima volta, infatti, si è andati a depopolare gli animali di soggetti totalmente abusivi. Apprezzamenti sono stati espressi dalla delegazione per questi nuovi accorgimenti e disposizioni del piano di eradicazione della malattia.